L'attore che ha doppiato più spesso è stato Jamie Foxx, in Collateral, Stealth Arma Suprema, Yared, Miami Vice, Dreamgirls e The Kingdom, per quanto riguarda i cartoni animati ha doppiato numerosi personaggi, tra cui Eddie Ned, Eddie The End Eddie, Magnacati Monster Allergy, Mauricio in I Pinguini di Madagascar e Lorco Knut. Prima voce, in Wings Club, nella serie A. Simpson è la voce ufficiale del sovrintendente Shalmers. Questo a partire dalla seconda parte della diciassettesima stagione. In sostituzione di Mimmo Maugeri, ha inoltre prestato la voce al personaggio di Keats nel videogioco folklore e a diversi personaggi. In Fallout 3, spesso ha il ruolo della voce narrante. Ad esempio in Mademoiselle A. Alla triste il destino di un guerriero. Pokémon 4 Ever, Pokémon Eroes in diversi trailer cinematografici distribuiti dalla casa italiana Medusa Film, ha inoltre partecipato al doppiaggio di numerose serie televisive. Ad esempio ha dato la voce a Doug Sava in Desperate House Weave, a Eric King in Dexter, e a Adam Baldwin in Chuck. È lo speaker del canale televisivo Rai 2. La voce a Doug Sava in Desperate House Weave, ha inoltre partecipato al pubblico, ha inoltre partecipato al pubblico.